Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il suo impegno, affinché i teatri vengono riaperti, ha risvegliato in noi l'orgoglio di appartenere a qualcosa di importante per l'Italia tutta. Gli elogi che ha espresso nei confronti del nostro teatro hanno rafforzato la nostra voglia di fare sempre meglio. Sono stati giorni meravigliosi di musica ed insegnamenti di vita. Torni a lavorare con noi, maestro. La tendiamo a braccia aperte e le promettiamo che il Teatro Reggio darà, ancora una volta, prova di grande professionalità ed impegno. Con rispetto e affetto, l'orchestra, il coro e tutti i lavoratori del Teatro Reggio di Torino. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Allora, abbiamo donato al maestro una copia grazie al direttore dell'archivio di Stato che ci ha fornito questa copia di questa lettera di raccomandazione presso il conte Lascaris nel 1771, il 9 febbraio, quando Leopold Mozart e il giovane Mozart 15enne vennero qui a Torino e alloggiarono all'hotel La Dogana e assistettero poi anche una rappresentazione di un'opera di pesiello al Teatro Reggio. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 soprattutto sia Mozart e Verdi, che sono i due autori che io amo profondamente, e molto incuriosito di ritrovare l'orchestra dopo tantissimi anni. Quindi dentro di me speravo di trovare un'ottima situazione dal punto di vista artistico del coro e dell'orchestra, ma voi avete dimostrato di essere molto al di sopra dell'ottimo, di essere un'eccellenza importante non solo di Torino ma dell'Italia. Trovo che, per esempio, così fanno tutte, non vedo l'ordine di vederlo quando sarà, se abbia raggiunto il risultato dal punto di vista esecutivo notevole, notevolissimo. Non parlo di interpretazione perché l'interpretazione è un fatto mio, può essere buona o cattiva, però il livello esecutivo è stato di grande prestigio e così questi brani verdiani. Io parto oggi e lascio un pezzetto della mia, così non voglio essere retorico o aver romantico, però lascio un pezzetto di voi, di me a voi e di voi a me. E con la promessa, l'altro giorno ho detto il desiderio, faccio un passo più deciso con la promessa di tornare a lavorare sia con l'orchestra che con il coro e con il teatro tutto. Questa è una promessa che io faccio ufficialmente. La ringrazio molto. Grazie. 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 Grazie.